Quello più richiesto sono i gusti classici che non tramontano mai. Ad ogni ricorrenza si abbina sempre un elemento di enogastronomia. In questo periodo immancabile nelle case è il torrone che per l'occasione diventa morbido al cioccolato e dei gusti più svariati, una tradizione che incontra innovazione e creatività. Quelle nuove sono frutti di bosco, croccante alla marena, pistacchio che è anche molto nominato quest'anno che è fatto con pistacchi interi e cioccolato prevalentemente al pistacchio. Noi alla pasticceria Marano abbiamo un assortimento di oltre 30 gusti. Ogni anno c'è sempre un gusto che va per la maggiore. Quello più richiesto sono i gusti classici che non tramontano mai. Nocciola, mandorla, pistacchio, arachidi anche, mandorla di tutti i tipi, cioccolato bianco, mandorla fondente e anche cassata. Il torrone dei morti piace a tutti, grandi e piccini e si è solito acquistarli per sé e per i propri cari, già dalla settimana prima della ricorrenza. Il torrone viene comprato anche la domenica vicino alla piccola pasticceria, vicino alle paste, per assaggio. Però oggi, un giorno, come da tradizione, si acquista il bassetto di torrone.